Tra le molte apparizioni della Celeste Signora ricordiamo quella avvenuta alla Salette il 19 settembre del 1846. La strada nazionale francese numero 85 che parte da Nizza e raggiunge Grenoble è costellata di aquile imperiali. È la strada percorsa da Napoleone nel suo trionfale ed effimero ritorno dall'esilio dell'isola d'Elba. 40 chilometri dopo, Gap e 68 prima di Grenoble, la strada attraversa un piccolo borgo montano, Corp, dominato dall'imponente mole del Monte Obiu. A est di Corp inizia una vallata in continua salita. Dopo tre chilometri di aspre gole, la vallata si apre ad anfiteatro e si scorgono alcuni minuscoli grappoli di case isolate e semi diroccate. È un agglomerato centrale più grande raccolto attorno alla chiesa e al suo campanile. A 1140 metri è il villaggio di La Salette. Sui pascoli estivi che dominano il villaggio, accanto a una piccola fontana che serviva da punto di riferimento ai pastori e alle loro piccole mandrie, in un grandioso scenario di montagna a perdita d'occhio, i picchi nevati di verdi pendii, di nereggiare di abetaie e faggeti, il 19 settembre 1846 la madre di Dio apparve a due pastorelli nativi di Corp, Melania Calvà di 14 anni e Massimino Giraud di 11. La mattina di quel sabato 19 settembre 1846 trova i due ragazzi sul piccolo pianoro del Monteplanò, sopra il villaggio, con otto mucche, una capretta e il cane di Massimino. La giornata è splendida, sul mezzogiorno fanno abbeverare le bestie e consumano il loro frugale pasto vicino alla cosiddetta fontana degli uomini. A poco a poco li investe un senso di sonnolenza, stranissima per le loro abitudini. Si ristendono sull'erba e si addormentano profondamente. La prima a risvegliarsi è Melania, non scorgendo le mucche si allarma, una disgrazia può capitare presto fra quei dirupi. Sveglia Massimino ed entrambi arrancano di corsa verso il vicino collicello che domina l'altopiano, ma le mucche sono sdraiate pacificamente sui fianchi del vicino Monte Gargà. Rassicurati da questa vista, Melania, per prima, decide di scendere verso il valoncello per recuperare il tascapane, ma percorsi pochi metri si arresta come paralizzata dalla sorpresa. Laggiù, in mezzo alla piccola conca verde, sfavilla un globo di luce più abbagliante del sole. Il balloncello è diventato una laguna di luce dai riverberi accecati. Il globo di luce comincia a girare sempre più vorticosamente, aumenta di volume, si apre. Al centro appare una donna, seduta su un masso, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, il viso nascosto fra le mani, nell'attitudine di chi piange sconsolatamente. Ed è proprio così, poiché la sentono singhiozzare. Attenuata un po' la paura, i due pastorelli tuttavia non osano fare un passo. La donna si alza lentamente in piedi, è alta, bellissima, ma il suo volto è pieno di afflizione, sembra carica di tanti dolori. La signora gli dice di non avere timore e gli comunica di essere lì per annunciare loro un grande messaggio e muove alcuni passi verso di loro. Mai udita una voce così invitante, così carezzevole, dolce come una musica, dirà poi Massimino. Ora ogni timore è svanito e si precipitano accanto alla visione, così vicini che nessuno sarebbe potuto passare fra di loro. È bellissima, la bella signora, la chiameranno sempre i due veggenti e così la ricorderanno per tutta la vita col rimpianto più struggente. È di alta statura, maestosa, veste l'abito delle mamme del villaggio, ma candido e scintillante di pagliuzze dorate. Una cuffia sul capo, un abito scende fino ai piedi, uno scialle sulle spalle e un grembiule annodato. Ma la cuffia è ornata di rose, così pure l'orlo dello scialle e i contorni delle calzature. Dalle rose della fronte emanano raggi luminosissimi che formano uno splendido regale di adema. Accanto alle rose dello scialle è ben visibile una pesante catena. A una catena più piccola che le scende dal collo è appeso un grande crocifisso, luminosissimo. Sembra un piccolo sole nel globo di una luce abbagliante che avvolge la signora. Sui bracci della croce un mantello e delle tenaglie. La bella signora, lievemente chinata verso i due ragazzi, comincia a parlare, ma i suoi occhi continuano a versare le lacrime. Come piangeva, dirà Melania, dai suoi occhi le lacrime colavano e colavano e pianse fino al termine del suo discorso. Avvicinatevi, figli miei, non abbiate timore. Sono qui per annunciarvi un grande messaggio. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio. Esso è così forte e così pesante che non posso più trattenerlo. Da quanto tempo soffro per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, mi è stato affidato il compito di pregarlo continuamente per voi. Voi non ci avete fatto caso. Per quanto pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho dato sei giorni per lavorare. Mi sono riservato il settimo e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Coloro che guidano i carri non sanno imprecare senza usare il nome di mio figlio. Queste sono le due cose che appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho mostrato l'anno passato con le patate. Voi non ci avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e quest'anno per Natale non ve ne saranno più. Se avete lo sgrano, non seminatelo. Quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che verrà cadrà in polvere, quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa i bambini al di sotto dei sette anni saranno colpiti da tremito e morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Le noci si guasteranno e l'uva marcirà e voi non ci fate caso. La bella signora continua a parlare, ma è solo Massimino che la sente. Poco dopo solo Melania sarà in grado di sentirla. Sono i segreti della Salette che più tardi i ragazzi, appresa la scrittura, stenderanno separatamente e sigilleranno loro stessi per essere portati a Pio IX. Il Papa nel leggerli dimostrerà forte preoccupazione e serenità allo stesso tempo. Mai resi pubblici, sono tuttora custoditi nell'archivio del Vaticano. Poi entrambi i ragazzi sentono ancora le sue parole.